Hai mai visto un drago? Beh, forse non un drago vero e proprio, ma il clamidosauro ci si avvicina parecchio. Il clamidosauro utilizza il suo caratteristico collare non solo per spaventare i predatori, ma anche per regolare la temperatura corporea. Questo rettile è un vero campione di velocità, può correre su due zampe e raggiungere velocità sorprendenti. Grazie alla sua livrea colorata, il clamidosauro è un maestro del mimetismo. Si confonde perfettamente con l'ambiente circostante. La dieta del clamidosauro è piuttosto varia e include insetti, piccoli vertebrati e persino frutta. Alcuni scienziati ritengono che il clamidosauro possa essere un lontano parente dei dinosauri. Il clamidosauro può cambiare colore della sua pelle per mimetizzarsi meglio con l'ambiente. Le femmine di clamidosauro depongono fino a 20 uova alla volta. Il clamidosauro è un animale solitario e di solito vive in tane scavate nel terreno. Il suo collare può espandersi fino a due volte la dimensione della sua testa. La distruzione del suo habitat naturale e la cattura illegale rappresentano le principali minacce alla sopravvivenza del clamidosauro. E queste erano 10 curiosità incredibili sul clamidosauro. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale per altri contenuti interessanti. Non dimenticare di lasciare un like e un commento. Alla prossima!